Ciao a tutti amici e amiche creative, bentornati sul mio canale! Oggi a grande richiesta un nuovo video in cui vi mostro un modo carino per riciclare delle cassette di legno, della frutta o della verdura. Infatti in tantissimi su Instagram mi avete chiesto degli ulteriori progetti per riciclare questo materiale. Essendo che le cassette sono fatte di legno, ci sono tantissime nuove creazioni che possiamo preparare, perché il legno è un materiale molto versatile. Possiamo creare dei contenitori per la nostra casa oppure per il giardino e anche degli elementi decorativi per noi o per fare dei regalini. Ma prima di iniziare, se siete nuovi del canale, benvenuti! Io sono Silvia e mi raccomando, iscrivetevi e attivate le notifiche per supportare il mio canale e per non perdervi tutti i miei nuovi progetti sul fai-da-te. Il materiale base di questo progetto sarà appunto una cassettina di legno, di qualsiasi dimensione va bene. Tutto ciò che andrò a fare è smontare la cassettina utilizzando delle pinze. Vi consiglio vivamente di utilizzare dei guanti durante i vari passaggi, in modo da non rovinarvi le mani per via di qualche scaglietta di legno. Io ho utilizzato dei guanti in plastica molto fini, ma è preferibile che utilizzate quelli appositi da giardinaggio per maggiore sicurezza. E vi parlo soprattutto per esperienza personale. Ok, smontata la cassetta abbiamo un bel po' di legnetti per i nostri futuri progetti. Sempre per evitare la questione delle mini scagliette sulle mani, vi consiglio prima di utilizzare i vari legnetti di dargli una bella scarta vetrata, sempre appunto indossando i guanti. La mia cassettina era composta fortunatamente da della legna molto fine, quindi ho potuto tagliare i miei elementi decorativi direttamente con un paio di forbici. Se la vostra è un po' più grossa potreste utilizzare delle tronchesine, seghetti, trafori e chi più ne ha più ne metta, oppure farvi tagliare le varie parti direttamente da qualcuno che ha i macchinari specifici. Nello specifico io che cosa ho fatto? Ho ritagliato con le forbici dei cerchi e dei cuoricini per poi realizzare dei ciondoli, che terrò nella mia casa oppure andrò a fare qualche regalino. Risultando molto fini e con la possibilità che si possano spezzare, ho realizzato delle sagome doppie, che poi ho unito con la colla. Potete utilizzare una colla tenuta forte oppure direttamente la colla a caldo. Eccoli qui! I miei ciondoli in legno sono pronti per essere decorati. Sono già molto carini anche così e potete scegliere di fargli magari una decorazione delicata dal docco shabby chic oppure stravolgere completamente il tutto come ho fatto io. Ho utilizzato queste carinissime fustelline per ritagliare dei fogli adesivi colorati. Queste fustelline le ho prese sul sito di Craspire, che hanno tantissimo materiale creativo e di tutti i materiali presi online trovate il link nell'info box, così se servono anche a voi sapete dove trovarli. Ho applicato uno per uno le varie parti sui miei ciondolini, guardate che simpatici! E con delle matite colorate le ho dato anche un po' di colore. Grazie a tutti! Per far sì che gli adesivi durino nel tempo, gli ho applicato qualche doccia di vernice e se non l'avete in casa potete tranquillamente sostituirla con due strati di colla vinilica. Grazie a tutti! Ho aggiunto anche qualche glitter e qualche strass per rendere il tutto ancora più colorato e luminoso. Vernice asciutta, sono passata alle decorazioni finali. Ho incollato un cordoncino attorno alle sagome e per finire ho inserito un nastrino per poterle appendere. Ecco qui i miei ciondolini che rappresentano la famiglia. Secondo me è anche un'ottima creazione da regalare ad amici e parenti. Se me ne regalassero una io sarei veramente felicissima perché adoro queste cose. Bene, devo dirvi che sono proprio orgogliosa dei miei nuovi ciondoli in legno a costo zero. Sicuramente ne realizzerò tantissimi altri per ogni occasione. Invece che acquistare delle basi in legno già pronte, ora sappiamo come prepararcele da sole riciclando delle cassette di legno. Mi raccomando però, prendete tutte le dovute precauzioni. Quindi non dimenticate i guanti appositi. Bene, spero che questo progetto possa esservi utile ed ispirazione. Fatemi sapere che cosa ne pensate lasciandomi tantissimi commentini e pollici in su. Se siete qui per caso e questo video vi è piaciuto, mi raccomando iscrivetevi, attivate le notifiche e seguitemi sui social linkati nell'info box per non perdervi tutti i miei nuovi progetti sul fai da te. Ok, io credo di avervi detto tutto, vi auguro una buona estate e noi ci vediamo nel mio prossimo video. Ciao! Ciao!